C'è una differenza molto grande fra il nostro lavoro e il vostro lavoro. È una differenza molto grande. Per voi, io ti dico una storia di un amico che veramente era un bravo giornalista. Ieri era un bravo giornalista, non sto scherzando. Lui iniziava la cronica della partita nel suo computer. Quando guardava la partita, gli sembrava che il risultato finale sarebbe 1. Se purtroppo, negli ultimi 5 minuti della partita, qualcuno segnava e il risultato cambiava, lui si arrabbiava tanto perché doveva iniziare una cronica completamente diversa e rimaneva nello stadio mezza ora più, un'ora più per fare una seconda cronica. Per voi è facile. Per esempio, questo amico con gli occhiali, io penso che se lui vuoi andare qua e scrivere qua la sua squadra per vincere il Verde Bremen, io sarebbe felicissimo di vedere qual è la sua squadra. Prima della partita, non dopo la partita, prima, adesso. Penso che per lui sarebbe una soddisfazione molto grande perché chissà è un giornalista frustrato e vorrebbe essere un allenatore che non ha riuscito a essere. Il nostro lavoro è diverso. Noi dobbiamo pensare sempre dopo e dopo e dopo. E quando tu finisci una partita, tu non pensi mai in questa partita. Tu hai un nuovo obiettivo, tu hai un nuovo lavoro a fare. Io non ho parlato con i miei giocatori oggi della partita contro il Milan. Io ho parlato oggi con loro della mia partita contro il Bremont. Ho parlato di Pizarro, non ho parlato di Pato. Ho parlato delle caratteristiche di Lubus Mitchell, non ho parlato delle caratteristiche del signore Morganti. Ho parlato di Visa, non ho parlato di Abbiati. E questo è il nostro lavoro. E domani quando finisce la partita io vado a casa con Rui perché viaggiamo sempre insieme a casa. Io vado con il mio papelino e la mia matita pensando nella partita contro Bologna, non pensando con Verde e Bremont. La nostra vita è così. Per questo è una vita in cui tu non hai tempo per piangere. Tu perdisci domani un altro giorno. Tu vincisci. Per me non c'è tempo di festeggiare una vittoria. Perché due giorni dopo una nuova partita. Ma la nostra vita è bellissima. E' una vita per persone senza paura. Per persone che lavorano, non che scrivono sul lavoro degli altri. Io ti prometto, tu iscrivi la tua squadra e io gioco con la tua squadra. Io gioco. Per i soldi dei 9 milioni ci mi dà anche 500 mila euro? No, 9, no, 9. 11. Più pubblicità, 14.